Sì, ancora io qui. Sono qui per ricordarti gli appuntamenti di questo mese. Ah bello, io mi ricordo. Ah sì? E dove sarai questo sabato? Ehm, a Moonlight. E invece l'inaugurazione, non so, sì. Ah bello. E dove si trova? Light. No, perché ti ricordo che sabato scorso hai percato il nome della scottetta, ma non è la legge già. E in provincia di Potenza. Comunque è la tuta portale, dopo il marchio. E vediamo un po', con chi lavorerai il sabato? Ah, il DJ Rocco Gagnetti, Valerio De Vivo... Ecco, lo sapevo. Ti dice niente Mike M? DJ Mike M? DJ chi? Ma come DJ chi? Mike M, ci hai fatto 800 serate. Avete la quantissima ovunque. Ah sì, Mike M. E almeno l'ossi perché lo ricordi? Certo sì, c'è la Ceci. Eh sì, Cecilia Rodriguez. Vabbè, lasciamo perdere. Sabato 15 dicembre ci vediamo a un light disco in provincia di Potenza. Non mancatevi. Sì, allora dai, vogliamo che non ci prendi. Mi raccomando, non fare l'arte, non farmi fare queste figure. Ricordate che il microfono, anche per il Google Map, ma una mia stella, ma un po' qua. Ma pure questa, ma sicuro diverte, sicuro rotti.